Carissimi, non potendo scambiarci gli auguri nel tradizionale brindisi del 23 dicembre, mi fa molto piacere, almeno, salutarvi attraverso questo mezzo. È l'occasione anche per fare qualche considerazione sull'anno trascorso e tracciare le linee per l'anno che verrà. Voglio innanzitutto ringraziarvi per l'impegno profuso nei momenti più difficili del confinamento. La chiusura improvvisa di tutti i cantieri e la forte riduzione di molte attività di service hanno imposto alcuni periodi di cassa integrazione. E mai nella nostra azienda, oltre 100 anni di storia, avevamo dovuto farvi ricorso. Anche in questa occasione ho potuto verificare il forte attaccamento e la vostra disponibilità. L'organizzazione aziendale sia immediatamente attivata per garantire il maggior livello di sicurezza. Posso ora dire che i risultati sono stati ottimi. Tutti gli uffici competenti si sono coordinati per aggiornare il piano industriale e rivedere i possibili termini sia di consegna delle opere che delle forniture. Soprattutto si sono individuate le azioni per necessarie per affrontare il futuro. Tutto il mondo è stato indebolito da questo morbo infido e i prossimi anni saranno complicati, in cui sarà sempre più fondamentale riprendere la via della crescita e dello sviluppo. Noi saremo certamente in grado di giocare da protagonisti del mercato e a voi tutti credo faccia particolarmente piacere sapere che il portafoglio ordini del prossimo anno è rilevante sia in termini di volumi di produzione che per la qualità e solvibilità dei clienti. Potremo essere protagonisti ricercando un continuo percorso di miglioramento che non potrà essere traguardato solo con nuove sezioni per le quali stiamo già provvedendo per rafforzarci nei reparti che più ci sembrano deboli, ma soprattutto migliorando i nostri processi interni e la qualità intrinseca del nostro lavoro. In sostanza occorre il vostro impegno. Negli anni passati abbiamo sposato una filosofia di crescita che ci ha consentito di superare ogni crisi e ogni situazione difficile, ma soprattutto ci ha consentito di poter acquisire opere e attività sempre più sfidanti e interessanti. Da parte mia, da parte di tutta la mia famiglia potrete contare sull'impegno per mantenere questo indispensabile percorso di crescita. Vi ringrazio per l'attenzione e permettetemi di fare tutti voi auguri speciali di Buon Natale e Sereno Anno Nuovo. Auguri che mi farà piacere se li estenderete alle vostre famiglie. Grazie.